Preghiamo, oh Dio, creatore e conservatore del genere umano, donatore di grazie spirituali e concessore generoso di umana salvezza, benedici di tua benedizione queste rose. Preghiamo, oh Dio, creatore e conservatore del genere umano, donatore di grazie spirituali e di persone alle quali saranno applicate, quindi malati, di coloro che in caso al cuore devolutamente conserveranno e secco le riferanno. Siano lontani le moni, con timore e tremore fuggono insieme con i loro ministri, da quelle abitazioni ne osi o mai più molestare coloro che ci servono. Per Cristo, nostro Signore. Amén. Adesso diamo la benedizione, poi diamo la benedizione, poi diamo la benedizione. Dio dente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amén. Devozioni a Santa Rita, Santa Rita. Ti adoriamo Santa Rita, Santa nella spine della rosa, per il tuo amore umile, vero e progresso e progresso crocifisso. Aiutaci a pentirci dei nostri peccati, dell'amaro come noi, con i fatti e la verità. Adesso Santa Rita è riempita dei frutti dello Spirito Santo, gli ottiene per noi. Voi dite, ottienila per noi. Il frutto dello Spirito è l'amore, pace e gioia, purita l'hai vissuta. Ottienila per noi. Il frutto dello Spirito è partenza, perdona e purezza. Purita l'hai vissuta. Ottienila per noi. Il frutto dello Spirito è benedità, dominio di sé e speranza. Purita l'hai vissuta. Ottienila per noi. Signore Gesù, oggi attraverso le mani di Santa Rita, noi ti presentiamo le nostre situazioni personali e familiari. E il nostro dimenso desiderio di bene per le nostre famiglie e le nostre comunità. Manda su di noi, oh Cristo Gesù, lo Spirito Santo, perché i nostri atteggiamenti e le nostre parole, come vorrei di Santa Rita, siano ispirati al tuo accello e gridati dalla tua vita. Ti salutiamo, oh Rita, vaso di amore, donna di pace e modello di ogni virtù, a Cristo sempre le Dele, santo della Cazzo e del perdono. Aiutaci a credere in Dio e soccorrici in ogni necessità, ora e sempre e in modo particolare per tutte le vedove, seguiti. Allora, alcune cose.